Presidente Pappaterra, Terra Madre, il Salone del Gusto è uno degli eventi più importanti dedicati proprio alla cultura del cibo. Ovviamente il Parco Nazionale del Pollino non poteva non essere presente in questa importante occasione. In quale veste vi presenterete? Noi ci siamo per una ragione che è quasi scontata, nel senso che noi da anni abbiamo portato alla ribalta giovani e donne che stanno facendo intrapresa, soprattutto nel settore agroalimentare di qualità del nostro territorio. Voglio ricordare qualche anno fa la nostra piattaforma Pollino People Experience che realizziamo con la Fondazione Telecom e con la Fondazione Simbola 100 ragazzi e ragazze del nostro territorio, imprenditori che si sono affacciati per la prima volta e che sono diventati un po' i nostri testimonial. Quindi Torino sarà per noi ancora una volta la cornice all'interno della quale proveremo a raccontare delle cose positive che il Pollino in questi anni ha fatto in questo segmento particolare. Peraltro ovviamente poi non è che parleremo solo del cibo, dei nostri prodotti, ma proveremo a raccontare il Pollino a 360 gradi. Quindi sicuramente promuovere quella che è la filiera dell'agroalimentare di qualità, ovviamente. Dopo alcuni importanti riconoscimenti, la Carta Europea per il Turismo Sostenibile e non ultimo l'anno scorso, meno di un anno fa a Parigi, l'ingresso del Pollino nella rete UNESCO, evidentemente questo ci impone che la qualità diventa la nostra parola d'ordine. Quindi nel triangolo che va dal produttore al consumatore, evidentemente la qualità ambientale entra, non dico a gamba tesa, ma a pieno titolo.